Siamo proprio all'inizio della stagione estiva, quindi quando si registrano il 30% degli abbandoni degli animali domestici, e dico animali domestici perché intendo non soltanto cani e gatti ma assistiamo sempre più all'abbandono anche di animali esotici che vengono acquistati e spesso ci si rende conto che non si hanno le possibilità anche economiche, ma soprattutto materiali di poterli mantenere. Un animale domestico ci accompagna per tutta la sua vita e dovremmo averlo chiaro ogni volta che si decide di adottarli e questo purtroppo è un grosso problema che ci si accorge solo tardi, qualche volta, che è impegnativo come avere uno in famiglia in più e però l'animale viene sempre ad oggi considerato un essere tra virgolette inferiore e questo è assolutamente sbagliato perché merita un'attenzione e un amore assolutamente pari a quello che ci dà. E questi animali domestici sono straordinari, diventa veramente una cosa terribile pensare che qualcuno possa abbandonarli. Ricordiamo che l'80% di essi muore nel corso del primo mese dopo l'abbandono, specialmente durante il periodo estivo e con incredibili sofferenze. Il nostro appello è chiaro, non abbandonatoli ma prima ancora quando acquistate o adottate un animale ricordate che è per tutta la sua vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!